Oh, guardate un po' che abbiamo qui, slime! Ma guardatelo! Ciao cari, bentornati a Gioca con me! Guardate cosa ho preparato qui per voi, delle novità di Playmobil! Guardate, sono i nostri Ghostbuts, gli Atchiappa Fantasmi, tiri, 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 eccoli qui, guardate, sono proprio dei set molto particolari. In ogni pacchetto c'è un mostro e una Chiappa Fantasmi, e una piramide di ologrammi, insomma, i nostri mostri possono essere visti solo quando viene messo lo smartphone vicino a questi ologrammi. E si può giocare dai sei anni in poi, come potete vedere, questi sono i nostri set. Spengla, Stance, Zedmo, e tutto il team degli Jakob Fantasmi! Ora li apriamo e poi li vedremo bene. Ok, ora li abbiamo aperti, ognuno è un po' diverso, ognuno ha un mostro e un personaggio diverso. Come potete vedere, si tratta anche di vestiti diversi, di missioni diverse. Vedete, lei ha addirittura un'altra pistola, wow, niente male, è dietro anche una ricarica sulla schiena. E poi Zankman con la pistola Protoni. Vedete qui davanti è scritto Playmobil e il simbolo dei Ghostbusters. Qui ci sono anche dei vetri, dei chimici, sono di Stance. Ora proviamo con l'applicazione. Playmobil, Playmogram, si chiama, 3D, ecco. Possiamo scegliere tra Ghostbusters oppure queste principesse che vi erano state presentate, se non sbaglio. Noi andiamo naturalmente a giocare con i Ghostbusters. Scegliamo un personaggio, prendiamo Slimer, il mio preferito. E eccolo. Quindi prendiamo il nostro primo a Chiappa Fantasmi. Allora, mettere la luminosità al massimo, uno. Ok, l'ho già fatto. Poi, spegnete la luce in camera vostra per poter vedere il tutto. Ma per fare questo c'era una posta delle box nel set. Però vabbè, si può fare come volete, potete andare in cantina, eh. Poi bisogna mettere la piramide sopra come indicato. Ok, allora, così. Ok, caricamento, ok. Quindi così. Ora spegniamo la luce oppure usiamo questa... Guardate che bello! Abbassiamo ancora un po' di luce, così si può vedere bene. Guardate cosa abbiamo qui, Slimea! Wow! L'abbiamo riportato alla vita! Come potete vedere qui c'è un piccolo cavettino. Allora, ora si dovrebbe vedere meglio. Ops, ho sbagliato. Ok. Eccolo! Guardate che forte! Spero che lo potete vedere bene dal video, ma presumo di sì. Eccolo lì! E teoricamente potremmo provare a catturarlo. Mettiamo se è così bello anche quegli altri personaggi. Penso non dovremmo cambiare la piramide. No, è la stessa. Però dobbiamo cambiare personaggio. Dovrebbe essere questo. Scusate. Qui sopra. Ma comunque ci sono dei gommini in modo che non scivoli nella confezione, non preoccupatevi. Ora rifaccio un buio. Ecco, ora si vede l'altro mostro. Faccio un po' lo zoom, così vedete meglio. Eccolo lì. Oh, oh, guardate questo mostracciattolo. Che paura! Uh, uh, uh. Lo vedete? Che paura! Oh, si muove anche! Sembra un video. Wow, interessantissimo! Si vede anche sullo schermo, eh? Mi piace, mi piace, è molto interessante. Wow! Che paura! Oddio, guardate quanto si zoom così, che paura! Sembra che sia davvero catturato lì dentro! Questo è il nostro ultimo mostro, il Constance. Anche lui lo zoomiamo. E vediamo un po'. Wow! Io ho paurissima! Sembra che stia per uscire. Fatto davvero molto bene, devo dire. Sembra che si risuscitano questi mostri e si vogliono portare nella realtà. Allora, attenzione, wow, psium! E questi sono i nuovi set di Playmobil, Playmogram 3D. Con ogni Ghostbuster, con una cheppa fantasmi, c'è un mostro e una piramide. E si deve cercare di riportare la vita e ricatturare questi mostri. Però vedete come sono davvero veri. Quindi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Non perdete nessuno dei nostri fantastici video. Ciao, alla prossima! Ciao!